a l'anca loro sono andati dritto una volta sull'aspera una volta, un po' di cuore la quale si avuta la via l'aspera l'aspera il calcio la via Comunque sono 600 metri a dislivello salire qui su Com'è vola che mi tiro giù Eh ragazza ragazza Gopro scatta foto Anche lì c'è un sentierino che veniva giù No ho visto un sentierino che veniva giù A presto Grazie a tutti. 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 No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. Ce ne sono altri due. Go Pro scatta foto. Go Pro scatta foto. Grazie a tutti. 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 Allora... dobbiamo. Fermi. Go Pro Arresta Video